che ci proponi benissimo eccoci grazie ovviamente all'osservatorio Balcani-Caucaso e a Luisa che ci ha coinvolto in questa bella esperienza perché grazie e anche no nel senso che hai messo in moto tutta una serie di azioni in casa editrice che hanno trasformato questo novembre in un novembre molto pieno di attività per cui grazie ma ovviamente poi sentiremo anche la fatica ma ne parleremo magari a fine novembre quando abbiamo finito abbiamo pensato quando appunto ci hai parlato di Estival proprio al libro di Sasha Illich e a Sasha Illich che è qui presente anzitutto per la figura di Illich non solo come autore ma anche come personaggio culturale lui ha come dire diretto e tuttora dirige degli inserti culturali che appaiono anche in Germania dirige un festival Polipa Pristina che è un festival ormai di riferimento non solo per il mondo serbo e del Kosovo ma anche per come dire tutto il mondo balcanico e anche negli ultimi anni con aperture internazionali legate a come dire autori che hanno comunque un impegno sociale e politico però magari ne parlerà poi lui durante questo dialogo e abbiamo pensato a Illich anche per proprio il romanzo che stava uscendo in questi giorni Cane Contrabbasso nella traduzione di Esther Amjocic perché è un romanzo che è leggibile veramente in tantissimi livelli da una parte perché è un romanzo che si inserisce in una tradizione europea molto grande e molto larga tanto basta dire l'ambientazione l'ambientazione di questo romanzo è un ospedale psichiatrico potremmo sostituire l'opspedale psichiatrico con sanatorio e già vi si accendono ovviamente dei rimandi nella memoria e poi perché all'interno di questo ospedale psichiatrico i temi forti sono i temi ovviamente legati alla storia recente e meno recente dei Balcani della Serbia e quindi ci sembra veramente il titolo giusto per discutere di presente e di passato attraverso la letteratura di Inic e il libro inizia con il fiume per Antonomasia come dire che ci lega ai posti come dire all'Europa centrale e all'Europa orientale cioè il Danubio siamo su una nave militare su un battello militare serbo che porta il personaggio principale Filip Isakovic all'ospedale di Covin l'ospedale psichiatrico di Covin l'ospedale che tra l'altro è un ospedale che ha come dire nel suo background la memoria storica dell'Europa centrale perché è un ex caserma dell'impero asburgico che è stata poi trasformata in ospedale psichiatrico e lì il nostro personaggio arriva e comincia la sua vita all'interno di un mondo che è un mondo nel mondo ovviamente perché ogni luogo chiuso diventa ovviamente un luogo in cui la società viene dagli autori come dire raffigurata attraverso dei personaggi cartine e seguendo appunto la vicenda di questi autori noi navigheremo avanti e indietro non solo nelle biografie personali dei personaggi ma ovviamente anche nel passato e soprattutto nel presente dei Balcani e della Serbia magari la prima domanda appunto che farei a Shasha appunto questa idea dell'ambientazione in ospedale psichiatrico e poi ovviamente capirete anche tutto il lavoro che c'è dietro e proprio a Covin dell'ambientale a Dober dan svima hvala na pozivu io vorrei oRe Na pocetку želim da se zahvalim jer je Osservatorio o Balcani zapravo prva organizacija e portal koji je pokazao interesse za moj Roman e in 20 anni quando Roman ha ricevuto una grande intervista che ha fatto Francesca Rolandi. Buongiorno a tutti e a tutti. Prima di cominciare a parlare del mio libro vorrei ringraziare l'Osservatorio Balcani e Caucaso per aver mostrato interesse verso il mio libro già da alcuni anni, in particolar modo quando ho avuto il premio Nin. Potom je uspostavljen kontakt sa izdavačkom kućom Keller koja se interesuje za ovakve teme, koje inače nisu tako česte u književnosti danas, ali ja sam razmišljao o prošlosti i ono što je specifično za Srbiju, to je odnos prema prošlosti i mislio sam da preko psihijatrije koja služi kao oruđe neke politike, može da se vidi kakav je tretman prošlosti, odnosno ljudi koji imajo i nosi taj problem sa prošlosti. Čudno sam odabrao psihijatrisko u kliniku Kovin. Da questa relazione con l'osservatorio poi all'interesse è stato dell'editore Keller, che appunto ha permesso che il mio romanzo venisse appunto anche tradotto e quindi conosciuto anche qui. Keller sappiamo tratta e traduce libri di autori che con tematiche non consuete, proprio se mi sentite bene un po' un colore, tematiche non consuete e la mia tematica è legata con un rapporto con il passato. Cioè la psichiatria come strumento di una certa politica appunto attuata nel mio paese può descrivervi anche il rapporto stesso che ha con il proprio passato. che su un'esplività REAL I onda sam napravio jednu malu književو igru. S個 strane u toj psichiatriji nalaze se ljudi koji dolaze iz 1990. godina, koji su un'esplice rata e che non possono slobare da se slobode da te proprosti. A l'altra devisa u srpsche politiche tokom 90. è stata che Srbija non è stata in rata. E così è oggi. Chciao che ciò che succede con l'idea in un post-conflicto che non possono fare un proproste, che vive un trauma, e come politica preco psihiatrije operi sa tom traumom. Allora, quindi ho voluto, trattando il tema della psichiatria, applicare un certo gioco letterario, descrivendo certi personaggi che appunto si trovano a vivere questa realtà di questo ospedale proprio a causa del proprio vissuto degli anni 90, fino ad arrivare appunto a trattare il tema del post-conflitto nella nostra società, fino a sviscerare il fatto di come appunto lo sguardo sul trattamento psichiatrico e sui appunto malati psichiatrici possa in qualche modo svelare anche il rapporto che la società stessa ha nei confronti di quegli eventi degli anni 90, perché voglio ricordarvi che la nostra società, la politica della nostra società, la sua narrazione è soprattutto quella che la Serbia non abbia partecipato alla guerra. I tu se pojavljuju dva puta, samo ću još to da kažem, dakle, u romanu, jedan put je taj koji se preko medicamenta i farmacije porisi da bi se obrisala sećanja tih ratnih veterana, i drugi put je put uspostavljanja kontakta sa antipsihiatriom Franka Bazalje, i to je put kojim će se kretati glavni junaci ovog romana, sve do Italije i Genove, i oslobađenja na tom koposlijem concertu u Ljenovi sa migrantima. To je zapravo siže glavna neka motifska linija romana. Ecco, diciamo che il fil rouge del romanzo, anzi le linee narrative sono due. Una sicuramente è espressa attraverso il trattamento che appunto in questa struttura psichiatrica viene riservato ai veterani di guerra. Quindi questa rimozione, si lavora sulla rimozione dei loro ricordi. L'altra linea narrativa è legata invece al concetto dell'antipsichiatria. Mi collego appunto ai discorsi, scusatemi, al pensiero di Franco Bazalje ed eccoci qui che approdiamo quindi attraverso il romanzo all'Italia e dove tutto confluisce e termina con un concerto a Genova in compagnia dei migranti. E' solo una rečenica che è importante per la rimezione romana. Il clavno giunico che pripovede a questo romano è jazz contrabassista che non potrebbe svegliare sotto l'utica delle traume e per introdurvi ancora meglio nel mio romanzo, il personaggio principale è un contrabassista di musica jazz. E' un musicista dunque che non riesce più a suonare perché è schiacciato dai suoi ricordi. Sì, Filip Isakovic appunto è un personaggio che arriva a bordo di un battello militare all'ospedale di Covin, ha un passato da militare perché ha militato nella marina serba durante la guerra degli anni 90 e poi ovviamente ha iniziato la sua carriera di musicista. E' una carriera che però appunto si chiude e qui il romanzo gioca sempre su questi due livelli temporali da una parte il passato del musicista e come arriva poi a smettere di suonare come il mondo lo esclude e allo stesso tempo invece lavora sul presente all'interno dell'ospedale psichiatrico. Come appunto diceva Shasha uno dei film di narrativa è appunto il trattamento. La cosa che appunto mi ha molto colpito è che in Covin nell'ospedale scelto per l'ambientazione del romanzo c'è la convivenza di presenza e di passato. C'è un passato lontano passato omente l'europeo che è quello dell'impero spurgico e il passato più recente che ovviamente è quello come dire jugoslavo è un presente che è quello invece dell'ospedale psichiatrico dove vengono curati questi malati i quali sono tutti ex militari o la maggior parte ex militari. Questa convivenza di passato è presente però c'è anche nelle terapie che questa è anche un'altra cosa interessante. In questo ospedale convivono diversi tipi di terapie. Ovviamente è una terapia antica che è l'elettroshock che ancora viene usato sui pazienti e una terapia diciamo moderna contemporanea che è quella dell'uso dei farmaci e qui entra proprio la modernità più grande nel senso che la dottoressa che ha in cura questi pazienti lavora per questa grande industria farmaceutica olandese che fornisce i farmaci gratuitamente pur di avere i dati delle ricerche i risultati delle ricerche e dei trattamenti sui pazienti. E poi invece c'è un filone che è un filone diciamo chiamiamolo rivoluzionario che è quello appunto legato a Basaglia che però è portato avanti non tanto dai come dire medici ufficiali che gestiscono gli ospedali psichiatrici di Covid vado a figura il dottor Iulius che in realtà è un paziente gli stesso dell'ospedale psichiatrico e appunto chiederei a Shasha di raccontarci un po' la figura del dottor Iulius perché in questo senso ci dà un'idea molto interessante delle dinamiche che avvengono all'interno dell'ospedale. Concedimi per tebranti che 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 attrai e che che sono un' non di Qu'è il caso di la ricordazione di un risultato che non si può fare strane l'ikivare, ma più strane l'inucia. Molto ti, Saša, di noi, che ciò che ciò che ciò che sono di ovole, che ciò che sono capite. A come vi ho reso, Danilo Kišo, problemi di ovole letterature è che sono delle cose che sono delle cose che sono ripetite, come direbbe Danilo Kish, il problema è che tutte queste cose che ho narrato attraverso i miei personaggi, quindi con ruoli di fantasia, in realtà sono cose assolutamente reali, prese dalla realtà, prese dai documenti a cui io ho attinto. Un' odi osnivača povinjske psihiatrije, zvao se Desider Julius, on je bio jevrin iz Pančeva, lekar, psihiatr, i on je izvršio adaptaciju, odnosno transformaciju, jedne zatvorene institucije, kakva je bila vojna kasarna pre Prvog svjetskog rata, u psihiatriju. Znači, u istom prostoru se to formiralo. Ecco, il personaggio quindi del dottor Julius è realmente esistito, è un dottore di Pancevo, ebreo, che ha trasformato quindi a Kovin questa struttura, che era una caserma dell'impero austro-ungarico in una nuova istituzione psihiatrica. On je bio saputnik oktobarske revolucije, levičar, zaljubljenik u avantgardu, i u romanu se pojavljuje njegov vambračni sin, Marko Julius, koji je također lekar i psihiatr, koji je zatvoren tu po nalogu supruge Slobodana Miloševića, Mirjane Marković, od 95. godine, kad je on pokušao da objavi jedno studio o tom vladarskom bračnom paru. I on se od 95. do 2016. kada u Kovin dolazi Filip Isaković, nalazi tamo. i on je zapravo izvor znanja o antipsihiatri koju misaznemo u romano. Quindi il personaggio realmente esistito, quindi nelle veci del dottore di cui vi parlavo prima, ha partecipato e aderito alla rivoluzione di ottobre, è un personaggio di sinistra innamorato dell'avanguardia. Nel romanzo appare il suo figlio, Marko Julius, che è chiuso in questa istituzione dal 95, su ordine di Mirjana Marković, che sappiamo essere la consorte di Milošević, e permane in questo istituto, quindi psichiatrico, lo ritroviamo nel 2016, quando Filip Isaković, l'altro personaggio chiave del romanzo, approda. Ed è in questo personaggio, quindi in Marko Julius, che è lui la sorgente dell'antipsichiatria, di questo sapere. E, radici na ovom liku, moraio sami mnogo da istražujem. Dakle, za svaku stranicu koja je posvećena bila njemu, ja sam morao stalno nešto da čitam, kopam, tražim. Išao sam u arhiv psichiatriske bolnice koje se nalazi u Pančevu, i to je bila dragocena građa, jer sam tamo pronašao gomilu dokumenta o ekonomi i radu psichiatrije, te psichiatrije između dva rata. Per poter costruire questo personaggio, ho dovuto indagare moltissimo. Ho passato tanti anni tra gli archivi di Pančevu, ed è qui che ho trovato davvero documenti importanti, anche su tutto il pensiero, la costruzione della psichiatria in questi decenni. I pratio sam tu liniju razvoja psichiatrije, dakle, između dva rata, nakon drugog svjetskog rata, i utice antipsichiatrije, pre svega iz Italije, na evropsku psichiatriju, i ustanovio da je zapravo ta struja bila jaka i u Jugoslaviji, da u 1984. godini u Jugoslaviji mi smo imali jednu od posljednog konferencija o antipsichiatrije, nakon čega nastupa porasnazionalizma i conservativnih praksi i u psichiatrije i u politici naravno. Koje godine morimo? 1984. Quindi ho scoperto tantissime cose sulla psichiatrija, come dicevo, tra le due guerre, perché questo continua ad essere il nostro arco di tempo in cui si sviluppa tutto. E ho scoperto anche che l'influenza dell'antipsichiatrija è stata forte anche in Jugoslavia, tant'è che l'ultimo convegno tenutosi su questo tema risale al 1984. Dopodiché sappiamo che le influenze conservatrici all'interno della società hanno riguardato ogni aspetto compreso questo. I taj doktor Julius je zapravo zagovornik te antipsichiatrije unutar tog zatvorenok sistema psichiatrija ukovinu i on je taj koji plasira te slobodarske idee, da tako kažem, i Filip Isaković kreće se za tim idejama i tokom jedne pogune u kovinu, u psichiatriji, dakle, beži odatle i kreće onim putevima koji je zacrtao dr. Julius zagovarajući taj antipsichiatriji postupak koji je pre svega temeljen na negaci institucija, a negaci institucija, dakle, nije rušenje institucije, nego njena ponovna humanizacija i vraćanje te institucije nama, znači da ne koristi više sistemu i politici, nego da bude okrenuta prema pacijentu, odnosno franco basale vi reko da to i nije pacijent, nego je zapravo neko pojem neopadna pomoč te institucije. Quindi noi dobbiamo immaginare Julius operare ed essere portatore di questa ventata di pensiero innovativo, lo definisco libertario, con cui Isakovic si confronta e che lo spinge durante una ribellione all'interno dell'istituto psichiatrico a Kovin a fuggire e inseguendo proprio un percorso segnato da questo approccio di antipsichiatria che ricordiamoci consiste in una negazione dell'istituzione, dico negazione e non intendo una distruzione, ma un approccio assolutamente diverso che non ha nulla a che fare con il potere, le istituzioni, ma con un riappropriarsi del senso della cura legato alla persona. Ono što je zanimljivo, a možda to je stepen korak dalje, kojim ćemo ići, dakle, interesovano šta se događa sa osobom koja nosi tu traumu iz rata, a žive u društvu koje negira zapravo tu prošlost. I ono što je zanimljivo je šta se dogodilo sa Romanom kad je objavljen i kada je Roman dobio Ninovu nagradu. Dakle, režiminske institucije, pisci, kritičari, profesori sa fakulte univerziteta su ustali i pisali peticiju protivi i pogunili se da je to Roman koji je nepismen, koji je izdajnički, koji nam ne treba i bolje da nikad nije napisane. Zapravo, taj Roman je pogodilo negde traumaticne, neurologicne tačke društva. Vorrei proseguire, perché forse potrebbe essere la continuazione di questa nostra chiacchierata sul proporvi a riflettere insieme su che cosa possa essere per una persona vivere con dei traumi legati al vissuto bellico in una società che lo rinnega. Rinnega completamente una propria partecipazione alla guerra. Beh, la risposta potrebbe essere in parte anche suggerita da ciò che io ho vissuto quando il mio romanzo ha avuto un riconoscimento così importante come quello del premio Nin. Sono stato messo sotto tocchio, sono stato attaccato da diversi livelli di potere politico e accademico e accusato di essere il traditore che il mio romanzo in realtà è stato scritto da un'analfabeta e forse perché io fondamentalmente scrivendolo e pubblicandolo ho toccato dei punti nevralgici e dei punti di trauma di una tutta una collettività sì, in questo senso è interessante il romanzo praticamente poi prosegue con questa quotidianità dei pazienti e i compagni appunto di cura sono tutti ex militari che hanno avuto un passato molto violento proprio durante la guerra la guerra degli anni 90 e hanno portato ovviamente all'interno di questo ospedale si alternano le terapie di cura e i gruppi di lavoro eccetera dove appunto il dottor Julius fa da controcanto basta è al contrario non prendi i farmaci eccetera e allo stesso tempo appunto dall'altra parte abbiamo una società che vuole dimenticare di chi è rinchiuso in questo luogo e in questo senso c'è proprio un personaggio molto interessante un personaggio minore che è l'ispettore della polizia questo ispettore della polizia entra in gioco fin da subito perché quando il Filippo Isakovic arriva nelle prossimità di Covin siamo nel marzo del 2016 tutto il romanzo è costruito è raccontato in un arco temporale molto in realtà limitato è costruito in un anno anzi meno si va dalla primavera all'inizio ottuno del 2016 in cinque parti che penso immagino adesso ovviamente Sascha a caso vai mi dirà che mi sbaglio che in cinque parti che più o meno dovrebbero anche richiamare le cinque parti classiche della tragedia e penso per alcuni rimandi della tragedia sexperiana per eccellenza ecco e questo ispettore entra in scena subito perché appunto la prima cosa che vede quando il nostro come dire personaggio principale arriva a Covin è una donna morta ed è una migrante siriana cosa abbastanza anomala nella narrativa balcanica a meno che pubblichiamo noi che abbiamo letto noi in questo periodo come case editrice e questo ispettore poi scomparirà e ricomparirà all'interno del romanzo fino a quando sarà chiamato a fare luce sui trattamenti all'interno dell'ospedale e il fare luce o meno su questi trattamenti o prendere una posizione vicino o meno al potere per lui significherà la vita o la morte della propria carriera ecco questo mi è sembrato molto interessante magari potrebbe dirci qualcosa in più anche rispetto all'ispettore e a questo aderire o meno al potere rispetto all'ispettore su, da tako kažem pokušali u tom vremenu ili danas pokušavaju po svim sistemima da rade svoj posao odgovorno i lik koga pominje Roberto je zapravo inspektor koji lagano shvata šta se događa u sistemu i on shvata da se u toj bolnici zapravo radi eksperiment sa psihom tih veterana gdje se koriste izlesne stvari iz farmaceutske industrije i pokušava pokušava da otkrije to i shvata da delovanje tog leka koje je tu zapravo na studiji eksperimentalno i na ljudima se istražuje kako on deluje on shvata da zbog toga zapravo izgubiti posao i da može sam nastradati i to je jedna epizodna a važna uloga koju sam razvio jer smatram da takvi ljudi u društvu mogu da pokrenu neke stvari koje mogu nekako da isprive na površinu rispetto al personaggio dell'ispettore di polizia vorrei innanzitutto dire appunto che ci sono persone nelle nostre società che semplicemente da sempre tentano di fare il proprio lavoro in maniera responsabile e questo ispettore è fondamentalmente ciò che fa e come viene introdotto nel romanzo egli però comprende gradualmente ciò che in questa in questo istituto sta accadendo per davvero c'è una sperimentazione dunque sui veterani di guerra e un utilizzo quindi di farmaci non ancora approvati lui capisce anche in un certo momento che continuando ad indagare su questa questo aspetto probabilmente perderà il proprio lavoro ho introdotto questo personaggio apparentemente marginale ma in realtà una figura chiave perché credo fermamente che in una società personaggi come lui possono davvero all'interno del proprio settore del proprio ambiente smuovere significativamente qualcosa curiosamente arriva a una riflessione simile che Julius appunto rappresenta e articola, ovvero che la verità è indispensabile per arrivare a governare e a convivere con il proprio trauma e con il proprio passato. Verità che non si raggiunge perché appunto tutto il romanzo è dominato da questo meccanismo del silenzio e della negazione. E quando è che questo meccanismo del silenzio e della negazione viene meno nel romanzo? Quando interviene qualcosa di esterno. La migrante di cui vi ho detto prima che il personaggio principale Isakovic incontra all'inizio del romanzo, della vicenda, in realtà è la moglie di qualcuno, di qualcuno che è riuscito però a fuggire, a attraversare il colfine e ad arrivare in Germania. E poi più in là nel tempo, con tanti anni di differenza, chiederà notizie della moglie. Ed è appunto quando chiederà notizie della moglie che però è morta, che si scatenerà un'inchiesta e che porterà quindi poi a far cadere questo castello di carte e di negazione che rappresenta Covin. E mi sembra interessante appunto che se ne parli Sasha. Grazie. So, l'initore della destrazione è stata la sua presenza per la tristina. La istina che non lo andiamo a presenza, perché era la visita dell'initore, perché è stato davvero in grossa, perché la presenza è stata davvero la tristina? L'initore della tristina? L'initore dell'initore della tristina? L'initore della presenza è stata di un'initore, l'initore della tristina, l'initore del punto di stigione, la schiazza del punto di metà. Da, è stato in questa storia, perché è migransca storia, il romano ha una linea di psichiatri e di antipsichiatri in romano, l'altra linea è migransca, che è l'ide di siri e migranata a Balkano, che molti avrò iniziano a un' scopo di sviluppo di centri, una una madre che è avrò in cui, dove è strano. Filippo Isaković dopo la proposta di covi e bega, è migranata da spero di u Dženu. D'accordo, è una linea, è una linea, è una linea, è una linea jazz, perché è il romano che è riprovedano nella maniera jazz improvizzazione, da è un chapter in chapter, e vi alla fine dell' romano imate un soundtrack di tutti i jazz standardi che sono появi in romano. A to da je tek intervencija sa strane potrebna da bi se došlo do nekog otkrića istine ili izlecenja je apsolutno tačno. U tom smislu je i ideja koja dolazi od Franka Bazalje preko doktora Juliusa također intervencija izvan povina koja menja unutrašnju strukturu i odnos tih snaga onih koji lece i oni koji vi trebano da budu pod tretmano. Ok, si Roberto, effettivamente è così. Mentre una linea di cui abbiamo già parlato fin ad ora del romanzo è legata appunto alla psichiatria e all'antipsichiatria, la seconda linea che possiamo sicuramente individuare è legata alle migrazioni, in particolare alle migrazioni che riguardano la mia terra. Qui viene nominata appunto una storia siriana, vengono nominati appunto i centri di permanenza per le persone migranti, ma in particolar modo noi incrociamo la storia di questa donna che troviamo morta a inizio romanzo e dentro Covin e la terza linea è legata e la linea di jazz e dell'improvvisazione di jazz che viaggia attraverso i capitoli fino a fornirci su tutto il percorso del romanzo una traccia completa musicale. E sono d'accordo con te quando affermi che effettivamente è solo su spinta esterna che si fa luce anche sulla realtà e della verità che riguarda Covin. Ma questo emerge anche attraverso la figura di Julius che lui stesso introduce un concetto di psichiatria, anzi di pensiero antipsichiatrico dentro un'istituzione chiusa in cui la forza in campo è ben chiara e precisa. Il romanzo è pieno di suoni, pieno di musica, quindi questo è molto interessante, pieno di rimandi. Cioè c'è molta arte all'interno del romanzo, sia nelle, come dire, nella biografia del personaggio principale, del contrabassista jazz, per cui non c'è una pagina dove non c'è una citazione di una canzone di un autore jazz, di un contesto, di una frase, di un'emozione, di una nota. Poi c'è molta letteratura. Il dottor Julius legge fin da subito a Emano la Divina Commedia e ci sono i suoni della terapia, da cui viene sottoposto Isakovich per fare i conti col proprio passato, e poi ci sono i suoni dei nomi delle lingue, che è anche un altro aspetto interessante del romanzo, cioè i nomi di alcuni dei malati, che sono nomi ungheresi, nomi serbi, nomi kossovari, e così anche di frasi all'interno, che sono tenute appunto nella lingua originale dei vari personaggi. C'è una domanda? Sì, che era questo, ma ci parla un po' di questa, come dire, convivenza di arte, musica e suoni all'interno. Sì, ci parla un'emozione. e che sono molto più... ...che c'è... ...che c'è un'esitore, c'è un'esitore, c'è un'esitore, c'è un'esitore. Ma puoi diretti un'esitore di più o l'unitore, o suporti, c'è un'esitore, o terapia, c'è un'esitore, c'è un'esitore. Da, c'è un'esitore. Un'esitore, budući da je pripovedac, d'ac'le, glavni junak jazz kontrabasista i da ima izrazito pojačano čulo sluha i da je muzičar, pokušao sam da ovaj roman učinim zvučnim i da u taj roman utisnem zvukove sveta, a da sam tekst komponujem na taj način da on operiše na isti, ne isti, ali sličan način kao kada svirate jazz. Ja sam pomislio kako bi bilo da na kontrabasu odsviram priču o Filipu Isakovću i da tu priču nama priča Filip Isaković koji je jazz muzičar. Jazz muzičar koristi obično na početku jazz standarde. Dakle, da li je Coltrane ili Miles ili Baker, Cassandra Wilson, bilo ko. I ja sam onda počeo da radim kao na skali, notnoj skali, i da povlačim razne stvari iz raznih jezika. I zato ćete vi ovde naći originalne jezike, bilo da je romski, mađarski, engleski, francuski, srpsko-hrvatski, naravno, ili neke druge jezike koji se upliću u tu glavni tok romana. A on je takav da, ako znate ove jazz standarde, vi ćete onda lako, učitajući te pasaže, da prizovete i te zvukove. Questa je difficile, eh? No, però si, va bai, eh? Tu c' ima del seto. Allora, cominciamo col dire che il protagonista, come l'abbiamo già descritto prima, je un musicista di musica jazz, je un contrabassista. Dunque, ha un udito smisurato e il romanzo stesso l'ho scritto in una maniera da voler riproporre, oltre alle parole, anche una melodia, riportare all'interno della narrazione i suoni del mondo, dando proprio una cadenza che è tipica della musica jazz. Tra parentesi, Sasha ha fatto il nome di diversi jazzisti famosi. Chiusa parentesi. Issakovic, io mi sono immaginato, dice Sasha, di, mi sono immaginato come Issakovic avrebbe suonato questo romanzo. Se avesse avuto il suo contrabbasso tra le mani, che musica avrebbe suonato per descrivere questa storia? E immaginandomi ciò, immaginandomi una scala di note, immaginandomi un suono, io ho provato a riprodurre questo pensiero attraverso le parole. Ad esempio, mi ci sono molto avvicinato lasciando appunto in originale tutte quelle frasi dette in lingua maggiara, in lingua roma e così via. I samo bih rekao još nešto o jazz strukturi. Dakle, ovaj roman, budući da je ljubav duboko porinuta u ovaj roman i da je ljubav nešto što je esencialno bitno za iskupljenje i izlecenje. Roman ima četvrodelnu strukturu koju sam preuzeo od jazz albuma Johna Coltrane'a koji se zvao A Love Supreme i pokušao sam da iz jedno u drugi taj čepter tragam zapravo za tom esenzialnom ovaj stvari kroz jazz koji sam provlačio kroz roman. Per dirvi un'altra cosa rispetto a questa struttura jazz del mio romanzo c'è sicuramente una ricerca dell'amore. L'amore come la fonte la possibilità di darci un riscatto nella vita e anche fonte di guarigione. Mi sono ispirato al romanzo A Love Supreme di Coltrane ho provato a esplorare queste sue tracce in qualche modo tenendole dentro la struttura del mio romano. hai anticipato la domanda che avrei fatto nel senso che appunto nel romanzo ovviamente non c'è solo la violenza c'è come dire c'è anche l'eros molto forte c'è l'intimità la tensione intima che c'è tra paziente e dottore e dottoressa in questo caso che a volte appunto ha trapassa il limite e arriva lì quasi all'estremizzazione insomma e quindi veramente è un romanzo che ha più livelli ed è veramente molto interessante da questo punto di vista e approfitterei però della presenza di Shash anche per chiedermi magari se lui ovviamente come è raccontato nel romanzo c'è comunque come dire una posizione diversa rispetto alla propria storia recente da parte della Serbia e del governo come vede invece la scena letteraria serba Shash in questi anni ha intravisto un'evoluzione se ci sono dei luoghi comuni che tornano dei top poi faccio un esempio la letteratura di confine più vicina che abbiamo è la letteratura di lingua tedesca del Sud Tirolo dell'Alto Adige lì ci sono dei luoghi comuni che tornano dei temi profondi cioè il fatto di raccontare la storia quasi sempre in una dimensione di viaggio di allontanamento rispetto alla propria storia quindi personaggi che lasciano il luogo in cui sono nati e che riescono così a raccontare ovviamente il luogo da cui sono partiti se lui ha intravisto vede comunque delle evoluzioni nella letteratura serba di questi 20-30 anni che può dirci oppure un involuzione Pa očigledno, tim problemom sam se bavio jako dugo i priliecznie sam im pisao o tome. Dakle, in 180-200 godina u Srbiji, bar neki dominantni deo, konzervativni, je dobio veliku pažnju i oni su se priklonili zapravo toj politici i ostali su dominantni do dana današnjeg. Naravno, tu su nove generacije. Međutim, postoje i neke druge linije razvoja te knježemosti koje idu od Kiša, Pekića, Mirka Kovača, naravno, Biljana Jovanović. I to je linija koja je 90-ih godina bila potpuno devastirana. Nakon 2000-te godine, dakle, nakon Pada Miloševića, došlo da uspostave ponovno alternativne neke scene koje je krenulo u burni razvoj, međutim, to je prekinuto sa atentatom na predsednika premijera Đinđića. I nakon toga su ostala neka ostrca, da tako kažem, slobode, gde se još uvek piše neka kvalitetna literatura i vredna citania, a dominantna je, za pravo struja koja traje več nekole kredenze. Bé, possiamo dire che la situazione che troviamo oggi prevalentemente è quella che si è affermata negli anni 80. Parliamo di una letteratura e quindi di letterati molto conservatori, molto in commissione con la politica dominante, quindi il loro ruolo si è affermato allora e tutt'oggi risulta essere quello più radicato. Negli anni 90 però possiamo dire sicuramente che ci sono stati nomi di tutto rispetto che hanno assolutamente dato svolte importanti e hanno fatto luce sulla letteratura serba. parliamo di Kovac, di Kic, di Jovakovic tra alcuni nomi. Dopo la caduta di Milosevic, parliamo del 2000, sicuramente ci sono stati alcuni anni che sono stati anni di evoluzione, anni importanti che però sono stati interrotti con l'attentato al presidente serbo Gingic. Da allora posso semplicemente dire che in Serbia ad oggi esistono delle isole di libertà delle isole di libertà dove si scrive e si scrive bene però ecco rimangono delle isole. ti faccio un'ultima domanda poi magari lascio al pubblico se vuole interagire con Sascha Ilic quali sono stati almeno io da lettore italiano come dire ho intravisto una serie di come dire di classici dietro questo romanzo che sono i classi magari semplicemente il riferimento di me come lettore non tanto della costruzione del romanzo però ci ho trovato appunto Thomas Mann oppure l'edettore italiano ma non so se lo conosce Gesualdo Bufalino un romanzo importante ambientato in mussanatorio sempre in tempi bui ovviamente alla fine della seconda guerra mondiale allora ci ho trovato ovviamente l'amletto di Shakespeare volevo capire se lui ha come dire ideato questo romanzo ovviamente citati all'interno ci sono Dante c'è Copernico ci sono tanti varie opere citate all'interno ma volevo sapere se dire pensando a questo romanzo lui ha avuto dei classici di riferimento degli autori come dire che per lui sono stati comunque determinanti e importanti da to je tačno da napravim i jednu razliku bitnu za svet romana mog romana a to je da u toj psihiatriskoj zajednici kod pacijenata dakle imate uglavnom ljude koji su rođeni 70-i godin i koji su bili učesnici rata i na kraju završili tu u psihiatriji i jedan čovek stariji dakle dr. Marko Julius koji dolazi iz nekog prošlog vremena i on je znatno stariji od njih i on je meni bio važan kako zbog uticaja antipsihiatrije zapravo sam chcelo da napravim razliku između dve episteme jedna je epistema Jugoslavije a druga je post jugoslovenskih društava o to obrazovni profil Marka Juliusa je takav da on koristi i razume i čita neke klasike i neku literaturu koja je nama danas potpuno ili nepristupačna ili ne dolazi do nas ili redko ko poseže sa takvim knjigama i to je neka humanistička linija koja može da izvrši neku revoluciju u budućnosti i on je prenosi zapravo glavnom junaku posredno na neki način i postoje ti ljudi koji su mlađi učestvovali su u tim ratovima potpuno su devastirani i obrazovno su prilično siromašni i kada izašao roman onda su me pitali a zašto je doktor Julius tako bogat i pun tim kulturološkim kapacitetom a ovi junaci dakle koji su rođeni 70 ili kasnije deluju prilično ispražnjenu od tog potencijala to je zapravo razlika između obrazovnih političkih ako hoćemo i medicinskih sistema tog perioda Jugoslavije Allora rispetto alla domanda c'e fondamentalmente una demarcazione una differenziazione tra due diversi mondi due epistemi uno è il mondo della Jugoslavia e il secondo sono le societā post Jugoslave qui noi da un lato abbiamo questi internati sono persone della generazione degli anni 70 che quindi sono devastati dal punto di vista emotivo e umano e poi c'è la figura dell'anziano e l'anziano è Marco Julius che arriva dal passato e non è solo un passato anagrafico è anche un passato culturale e Marco Julius è detentore di quella cultura classica che che appunto Roberto riprendi riprendo e riprendevi nel discorso e essa oggi è rara come è rara nella nelle come è stata rara nell'educazione nell'istruzione di questi personaggi appunto degli anni nati negli anni 70 questa linea umanistica che in qualche modo Julius rappresenta ma anche trasmette all'altro personaggio quindi a Isakovic dà qualche tipo di sguardo di speranza che proprio questo tipo di approccio umanistico legato anche a una cultura non povera come che tipica ormai delle società post-Jugoslave ma legata a un'accessibilità che ora è sempre più rara possa in qualche modo sviluppare anche un sistema diverso siamo se qualcuno del pubblico vuole fare domande intanto che ci pensate ringrazio Maya Josevic per aver fatto un lavoro di traduzione così complesso è importante qualcuno di voi prego buonasera prima cosa io mi associo all'elogio all'interprete traduttrice bravissima io non conosco la lingua da cui ha tradotto ma è stata bravissima pensi che parliamo lingue diverse chi lo direbbe mai detto questo due domande una banalissima ma vorrei saperlo il contrabbasso l'abbiamo capito il cane cosa c'entra nel titolo la seconda domanda ho finito abbiamo sentito il premio che ha avuto meritatissimo penso e le reazioni negative che ha avuto è stato accusato di essere un traditore ma chiedo a lui all'autore Sascha Illich se ha avuto riscontri immagino positivi sia in Serbia sia nelle altre società post-yugoslave di cui ha parlato ripetutamente grazie della pitaju ljudi che in questo argono ti l'ho trattano come psirata, a s'altra parte, la situazione in psichiatrisco è stata da Dr. Julio dice che è il psichiatra, il psichiatra, il psichiatra, che è il psichiatra, che è il psichiatra, che è il psichiatra, quindi abbiamo un figuro che ha portato il psichiatra, che vive il psichiatra, che vive il psichiatra, e questo è proprio Filippo Isaković, i niente contrabass, i niente musica, i niente jazz, i niente potraga per la libertà. Questo è il primo ideo. Allora la prima domanda è una domanda che vi fanno sempre alle presentazioni del libro. Il cane è Filippo Isaković e lo è per diverse ragioni. La prima perché da veterano di guerra viene detto anche nel Giacomo, se è stato un cane da guerra, e la seconda ragione è perché vivo una vita da cani, dice il personaggio spesso, i trattamenti che mi riservano sono da cani. E quindi ecco, questa è un po' la prima parte. A drugi deo odgovora, naravno, imao sami u Srbiji dobre reakcije, naročito od čitalaca, pre svega, čitateljki, od nekih organizacija u kulturi, koje nisu povlašćene u režimu, dakle, od alternativne scene, i dobio sam reakcije da je taj trenutak, dakle, kada se taj roman pojavio i dobio tu Ninovu nagradu, bio bitan za sve koji su u različitim sferama društveno, političko e kulturno života, sa nekog alternativnog stanovišta pokušavali da urade nešto u tom sistemo. Tu samu lezano za Srbijo, ili innače za Srbijo. Pa bilo i pitanje di tali u Srbiji tako, a u regionu sam dobio da baš dosta, i gostosso na razni festivali. Per quanto riguarda la seconda domanda, ho avuto tanti rimandi positivi, soprattutto da parte di lettrici e di lettori, proseguendo, ho avuto feedback positivi e parole di sostegno da parte delle organizzazioni culturali, fondamentalmente quelle non allineate, quindi con il sistema, in generale dalle scene alternative, sia del mio paese che delle altre zone appunto della regione. E a diversi livelli quindi di responsabilità od di attivizmo proprio, però nel mondo alternativo sicuramente ho avuto tanti rimandi buoni. Romano je objavljeno u Hrvatskoj, godinu dana kasnije. Dubra Kugrašić je pisala, pratit će tekst. Tako da ponosam se na taj trenutak i na to što je ona čitala i napisala to što misli. L'anno dopo la pubblicazione del mio romanzo in Serbia ho partecipato in Croazia alla sua presentazione. Sono molto onorato perché questa presentazione e la premessa al mio romanzo in Croazia l'ha fatto Dubra Kugrašić. E quindi questo sicuramente mi fa molto onore anche perché io personalmente seguo quel tipo di approccio nella letteratura. Grazie.